Siete come le stelle che reggono il cielo, un cielo che guarda al futuro, quello della Lega del Filo d'Oro. Ben trovate, ben trovati amici e amici sostenitrici e sostenitori. Torniamo dunque insieme in questo appuntamento per ricordarci tutti che c'è un filo che ci unisce, che unisce le famiglie che sono qui ospitate, che unisce i professionisti e le professioniste che ogni giorno qui riescono a fare la differenza e che unisce, anzi a capo di quel filo, c'è un amico della nostra regione Marche, del nostro paese oramai, perché vi trasmettiamo dalla sede centrale della Lega del Filo d'Oro ed è proprio a distanza di pochi metri, ed è per questo che parlo di Nazione, di Italia, che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato qua per stringere queste mani, le mani di Rossano Bartoli, che quel filo lo tiene ben saldo oramai da anni. Grazie Rossano per averci accolto nuovamente, per vivere insieme questa giornata del sostenitore. Grazie, grazie, buonasera a tutti voi. È la quindicesima edizione della giornata del sostenitore, è un vero piacere ospitarvi nel nostro centro nazionale, seppure con una visita a distanza. Speriamo presto di riuscire a rifare la visita in presenza, però intanto godiamoci questo momento di stare insieme e di vedere che cosa, grazie al vostro aiuto, la Lega del Filo d'Oro è riuscita a fare. La tua squadra, poi veniamo anche alla scelta della giornata, di questa giornata, di questo 4 di ottobre, la tua squadra, dietro le quinte, e li saluto e li ringrazio, ha preparato per questo appuntamento, benché non si possa appunto ancora quest'anno creare quello che avremmo tutti voluto. C'è un incontro fisico vero, però c'è una sorpresa, Rossano, che grazie alla potente tecnologia della Lega del Filo d'Oro, che c'ha un'età ma guarda al futuro, possiamo già anticiparvi che ci sarà qualche bella sorpresa. Il punto di partenza di questo Filo d'Oro, io l'ho definito partendo dalle famiglie e in rappresentanza delle famiglie, la sento un po' sospirare, devo dire, non ti preoccupare, Monica Meloni, la mamma di Giulia, ben trovata intanto. Buonasera, buonasera. Come mai, come mai, cara, sei stata scelta? È colpa del Presidente, del Presidentissimo? Sì. Perché secondo te sei stata scelta? Per raccontare una storia bella, forte, no? Beh, la storia di Giulia vale la pena di essere raccontata, perché Giulia nasce il 25 novembre, la prima volta, con una lunga lista di non potrà fare mai, non farà mai, non potrà fare mai, e poi nasce una seconda volta il 19 novembre del 2017, quando arriviamo per la prima volta al centro diagnostico della Lega del Filo d'Oro. Due vite, di fatto, nel mezzo, appunto, questo filo che si hanno dato al percorso della vostra vita. Dicevo, poi ci arriviamo a raccontare bene questa storia, già però ci hai incuriosito tanto, dicevo, la data di oggi non è scelta a caso, è la giornata nazionale del dono, ed è chiaro che siamo qui, caro Presidente, per ricordare quanto sia importante il sostegno, io dicevo, le stelle che sorreggono il cielo della Lega del Filo d'Oro da parte dei sostenitori che in questo momento ci stanno seguendo, anche virtualmente, sono in tante e tanti e li ringraziamo. Ho accennato al Presidente della Repubblica Mattarella, ci aiuta a rivivere un attimo, anche se brevemente, quell'emozione là, al volo, un po' fuori microfono, diciamo, dai. Sì, è stata una giornata intensa di rilievo per la vita e la storia della Lega del Filo d'Oro. Il Presidente della Repubblica il 30 di marzo è venuto appositamente a visitare il nostro centro per l'inaugurazione. Una giornata intensa, una giornata di grande emozione, dove il Presidente ha potuto, diciamo, toccare un po' con mano la realtà della Lega del Filo d'Oro, intrattenendosi con gli ospiti, intrattenendosi con il personale, con i volontari, con quanti collaborano con la Lega del Filo d'Oro. Significative, diciamo, le parole in chiusura dell'incontro quando il Presidente, nel fare i complimenti, ha detto la Repubblica vi è riconoscente. Una bella frase che noi abbiamo scritto nel nostro libro e che, diciamo, ci guiderà per i prossimi anni per portare avanti ancora un progetto importante di sviluppo per aiutare più famiglie, per aiutare più bambini, giovani, adulti, sordoscechi e complori minorazioni psicosensoriali. In questo il ruolo dei sostenitori è un ruolo fondamentale perché grazie al loro aiuto, grazie al vostro aiuto, siamo riusciti a raggiungere determinati obiettivi e pensiamo con ottimismo di poterne aggiungere ancora altri. Certo che la Repubblica vi è riconoscente è una frase che resta nella storia e che possiamo rigirare alle persone che sono dietro le quinte che voi non potete vedere. Quella bosco che cresce accanto alle Giulia che viviamo ogni giorno qua in questa struttura e che rigiriamo anche alle sostenitrici e ai sostenitori ai quali vogliamo raccontare anche un pochettino il presente così come il futuro, Presidente, perché so, conoscendola, che lei, come tutta la sua squadra, non vi fermate mai. A proposito di coloro che sono con noi in questo momento collegati, vi ricordo come da tradizione in questa giornata del sostenitore c'è la possibilità al termine di questa chiacchierata insieme e di questa sorpresa che stiamo per condividere. Tu lo sai di quello che sta per succedere? Vediamo. C'è la possibilità di interagire, quindi al termine di questa chiacchierata insieme potremmo perché no anche ascoltare la vostra voce attraverso un messaggio, una testimonianza, un saluto, un semplice grazie, un grazie come quello che ci ha rivolto il Presidente della Repubblica. Passiamo un attimo già dal futuro, Presidente, ci apre un po' la finestra verso il domani? Il futuro, intanto il prossimo anno, la Lega del Filodoro compie 60 anni, quindi è un compleanno importante, diciamo 60 anni sono tanti e vorremmo riuscire a festeggiare il compleanno proponendo altri obiettivi. Stiamo lavorando ad un progetto che riguarda Roma, la Regione Lazio, per un nuovo centro residenziale diurno, per un rafforzamento del servizio territoriale. Stiamo lavorando alla possibilità di aprire altre sedi territoriali in alcune regioni dove ancora non è presente la Lega del Filodoro, ma anche un grande sforzo per investire molto nella ricerca, nella collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere e quindi sempre con un'attenzione forte al personale, alla loro preparazione, al loro coinvolgimento e anche uno sguardo importante a tutti i volontari che in questi anni ci sono stati vicini e che, diciamo, tuttora sono in aumento e ci danno un grosso aiuto e ci consentono di svolgere al meglio determinate attività, determinati servizi che altrimenti non sarebbe possibile per una organizzazione come quella della Lega del Filodoro. Giusto, Presidente, citare i volontari. Ne abbiamo visto uno di volontari, uno un po' speciale di volontari, nelle immagini ancora di quella splendida visita del Presidente della Repubblica Sergio Napolitano, un certo Neri, non so se lo conosce, Neri Marco Re, chiaramente lo conosce molto bene, anzi è grazie alla grande amicizia con il Presidente Bartoli che un personaggio come Neri Marco Re, marchigiano, ha deciso di legare il suo sorriso a quello delle famiglie della Lega del Filodoro. Lui dice di solito delle Marche, le Marche o le ami o non le conosci, perché una volta che le conosci le ami per forza. Potremmo, Presidente, parafrasare questo concetto anche sulla Lega del Filodoro. La Lega del Filodoro o la ami o non la conosci, perché una volta che la conosci attraverso il lavoro delle operatrici e degli operatori, una volta che la conosci attraverso le storie delle persone, sia le persone che vengono accudite, ma anche delle famiglie che vengono altrettanto accudite, la devi amare per forza. Tra poco sentiamo la storia di Giulia. Confermi intanto che siete stati accolti non solo Giulia, proprio tu e voi anche come famiglia. Assolutamente. La famiglia è sostenuta, supportata e ci insegnano tanto anche a noi. Prima di arrivare a questo, facciamolo, questo piccolo coup de théâtre, una sorpresa che vogliamo dedicarvi. Non possiamo fisicamente portarvi per mano all'interno di queste strutture e allora lo faremo virtualmente grazie a Nicoletta Marconi che è direttore del settore trattamenti estentivi e servizi territoriali all'interno del nuovo centro nazionale dove ci troviamo. Potremo visitare insieme le aule dedicate alla riabilitazione, il laboratorio, la cucina didattica, l'aula di musicoterapia e i percorsi esterni. Siamo pronti a partire? Sì. Andiamo insieme a visitare la Lega del Filodoro, il suo cuore. Buonasera a tutti, benvenuti al centro nazionale. Sono Nicoletta Marconi, direttore trattamenti estensivi e servizio territoriale e oggi vi guiderò all'interno della struttura. Qui siamo all'ingresso del centro costituito da nuovi edifici e un ampio parco esterno. Il parco è sempre presente nei nostri centri. La scelta dei materiali, dei giochi, dei colori è pensata per offrire agli ospiti con qualsiasi tipo di disabilità, esperienze di svago e di crescita in piena sicurezza. I giochi sono immersi in un contesto ricco di stimoli, sia visivi che olfattivi e sensoriali. Il centro è costruito con massima attenzione alla sostenibilità ambientale. E ora siamo pronti per entrare. Ci troviamo all'interno della reception. Il presidente Rossano Bartoli ha il piacere di fare una breve introduzione per tutti voi. Il nuovo centro nazionale della Lega del Filodoro è una struttura d'avanguardia per l'assistenza, l'educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, progettata all'insegna dell'efficienza energetica e dell'innovazione strutturale, grazie all'esperienza e alle competenze maturate dall'ente sin dal 1964, data della sua fondazione. Il centro, realizzato in due lotti, nasce con l'intento di costruire un ambiente progettato per assicurare la più completa vivibilità e fruibilità di ogni spazio, l'illuminazione, gli arredi, le camere e i bagni individuali, i percorsi interni ed esterni che facilitano l'orientamento. Nel dicembre del 2017 è stato inaugurato il primo lotto, oggi pianamento operativo, di cui fanno parte edifici strategici come il centro diagnostico, i servizi educativi, riabilitativi e sanitari e trattamenti intensivi. Il secondo lotto, inaugurato a marzo del 2023, comprende le residenze, le foresterie per i familiari, le piscine e le palestre, l'edificio con la cucina, mensa e lavanderia, il museo e centro visite. L'attivazione completa del nuovo centro nazionale consentirà di ridurre i tempi di attesa per le diagnosi e le cure riabilitative e di accogliere un numero maggiore di persone incrementando i posti fino a 80 per i ricoveri a tempo pieno e 20 per la desigenza di urna. Un sogno che abbiamo avuto il coraggio di sognare e che è diventato realtà. Grazie, Presidente. Eccoci tornati. Ora entriamo nel cuore del centro. L'area dove l'equipe dei professionisti della Lega del Filo d'Oro accompagna ogni bambino giovane e adulto nel percorso educativo riabilitativo personalizzato. Il primo passo è per tutti da ogni parte d'Italia il centro diagnostico. Ora siamo dentro un'aula del centro diagnostico. Le tizie e la sua educatrice stanno svolgendo una divertente attività che facilita la coordinazione. Diamo la parola ad uno degli psicologi. Sono Lorenzo Pergolini psicologo e case manager del centro diagnostico. Il primo passo del percorso che le persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriali intraprendono con la Lega del Filo d'Oro è rappresentato dalla valutazione che avviene per tutti da ogni parte d'Italia al centro diagnostico di Osimo. durante la valutazione che dura una settimana l'equipe interdisciplinare composta da psicologi educatori, assistenti sociali, medici, tecnici specializzati nella riabilitazione e infermieri effettua una valutazione globale delle abilità, delle potenzialità e delle caratteristiche di ogni singola persona. Questo ci consente di elaborare un programma riabilitativo individualizzato che verrà successivamente attuato o in altre strutture di riferimento del territorio di residenza della famiglia o all'interno dei centri di riabilitazione della Lega del Filo d'Oro. Al centro diagnostico arrivano anche bambini di età inferiore ai 4 anni per quello che noi chiamiamo intervento precoce della durata di 3 settimane perché prima si comincia e maggiori sono le possibilità di una vita autonoma e felice. Oltre alla persona con sordocecità o pluriminorazione accogliamo anche il suo nucleo familiare in appartamenti dedicati la famiglia infatti è un alleato imprescindibile per il percorso da fare insieme una strada durante la quale i tanti no ricevuti diventeranno sì perché alla Lega del Filo d'Oro è un mondo di sì sia alla speranza, sia a nuove possibilità che sembravano non poter esistere sì alla vita che continua. Anche gli ambienti e i dettagli giocano un ruolo fondamentale per la valutazione funzionale ce lo spiega Vanea. Progettiamo intorno alla persona un percorso di lavoro e questo percorso naturalmente prevede una personalizzazione della stanza perché a volte una stanza serve una stanza molto colorata una stanza ricca di stimoli per ricercare interessi per catturare attenzione altre volte al contrario l'attenzione la catturiamo meglio se la stanza è il più possibile spoglia si ha pochi elementi oppure al bambino piace di più il colore e allora la stanza viene inondata dai cuscini, tappeti, stoffe giocattoli colorati al contrario è un bambino che la sua percezione è catturata di più dal bianco e nero allora tiriamo fuori i teli in bianco e nero le palette a striscia, scacchi e quant'altro oppure è un insieme di cose allora organizziamo degli angoli c'è l'angolo colorato l'angolo con solo le luci l'angolo con il bianco e nero e poi naturalmente anche lì andiamo ad osservare se magari interagisce di più in quell'ambiente piuttosto che un altro e poi da questa selezione possiamo togliere o aggiungere nel contempo per esempio per gli adulti la personalizzazione costituisce proprio di andare a ricercare tutto quello che serve magari per un percorso di apprendimento funzionale per un recupero della scrittura e lettura e quindi magari ci procuriamo dei pc appositi o delle sintesi locali piuttosto che un video ingranditore piuttosto che una barra braile e quindi piano piano la stanza si arricchisce di tutti quegli elementi che possono essere utili non tanto al lavoro nostro quanto alla possibilità di sviluppo di quella persona Fin dall'inizio mettiamo la persona al centro le esigenze, le potenzialità i residui sensoriali guidano tutto il percorso educativo Ora vi portiamo ad incontrare la musicoterapista può sembrare strano ma la musica è fondamentale anche per chi non vede e non sente Godiamoci fiammette Nicole che suonano il tamburo canticchiando una canzone Entrando qua capita spesso di vedere i bambini sdraiati sul pianoforte per lasciarsi collare una scena molto tenera molto emozionante vedere che il ritmo dei pezzi musicali li coinvolge e li trascina fuori dal loro mondo è la testimonianza di quanto questa attività riabilitativa sia fondamentale altre volte invece li vediamo rilassarsi sulla pedana vibrante che permette loro anche a chi non ha residuo uditivo di ascoltare la musica attraverso le vibrazioni e questa è davvero una grande emozione Mi chiamo Fiammetta e sono la musicoterapista qua al centro nazionale la musicoterapia utilizza l'elemento sonoro musicale per creare una relazione con la persona sordoceca o con pluriminorazione attraverso sensazioni piacevoli riesce a catturare l'attenzione stimola le percezioni e predispone all'esercizio in questo modo i ragazzi riescono ad acquisire maggiore armonia nei movimenti maggiore capacità di ascolto e di partecipazione ottenendo benefici anche per quanto riguarda il linguaggio e la comunicazione sdraiarsi sul pianoforte o sulla gran cassa appoggiare i piedini sulla chitarra ascoltare le vibrazioni della musica attraverso una pedana dedicata sono esperienze che creano un legame tra l'ospite e la terapista e lo rendono partecipe e più propenso a svolgere le attività anche semplici se l'obiettivo è ad esempio insegnare al bambino a stringere un oggetto tra le mani si può partire con le maracas magari con il cucchiaio e niente ma pur di sentirla suonare quella maracas a un certo punto resta in mano per i ragazzi con residuo uditivo la musica è anche uno stimolo importante e gli strumenti diventano fonte di conoscenza sensoriale mediata dal piacere delle buone vibrazioni musicali piacere rinnovabile tutte le volte che il bambino ne sente la necessità scendiamo ora nell'area dedicata ai laboratori dove giovani e adulti svolgono attività occupazionali il centro è stato pensato per avere a disposizione ambienti differenti per le diverse attività specifiche della giornata e della settimana è un ambiente creato appositamente sulle necessità di chi non vede e non sente che mette a frutto l'esperienza di 60 anni in ogni piccolo dettaglio ad esempio gli stipidi delle porte hanno un colore di riferimento e un particolare profilo tattile in base alla tipologia delle stanze le porte delle stanze di apprendimento sono di colore arancione lisce e senza scanalature le camere hanno la cornice blu con tre scanalature le porte dei bagni sono di colore verde e con una sola scanalatura centrale ogni colore inoltre fornisce un buon contrasto con lo sfondo della parete ogni stanza è poi caratterizzata da segnalini multisensoriali che forniscono informazioni sul tipo di ambiente in cui si entra il piccolo cestino anticipa che ci troviamo di fronte al laboratorio di medollino i segnali sono studiati per permettere agli ospiti di orientarsi nello spazio e compiere in autonomia i gesti della quotidianità potete notare anche il corrimano utilissimo per le persone non vedenti e l'illuminazione diffusa e non diretta per favorire chi ha un residuo visivo entriamo adesso in un ambiente davvero speciale la cucina didattica la mia collega Emanuela mentre Fabio e Alessandra preparano piatti squisiti con l'aiuto delle loro educatrici ci racconterà come è stato pensato questo ambiente sono Emanuela Storani tecnico di riabilitazione per l'autonomia la mobilità e l'orientamento per le persone sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali ad Osimo qui è stata realizzata una cucina didattica un laboratorio ad hoc per le esigenze delle persone sordo cieche l'obiettivo come sempre è portare il bambino o l'adulto a sviluppare per quanto possibile un maggior grado di autonomia che possa essere poi mantenuto una volta che la persona rientra in famiglia gli spazi sono adeguati sia per lavorare in piedi sia per lavorare seduti anche chi ha disabilità di tipo motorio può avere accesso agli spazi della cucina così da permettere a tutti di dilettarsi ai fornelli questo spazio è utile per dare alcuni suggerimenti a chi sta perdendo la vista un'occasione importante per sfruttare e sviluppare gli altri sensi il tatto durante la manipolazione degli ingredienti l'olfatto per percepire l'odore dei cibi durante la preparazione il gusto ovviamente per la degustazione in cucina troviamo utensili e piccoli elettrodomestici come bilancia parlante un ospite non vedente ma con un residuo uditivo potrà pesare gli ingredienti delle sue ricette e verificarne le dosi misurini basta scegliere il misurino giusto per essere certi di dosare la giusta quantità piano cottura di induzione in vetro ceramica senza fuoco né gas si eliminano i rischi di bruciature si facilita le operazioni di cottura perché la pentola si riscalda anche quando non è perfettamente centrata sulla piastra e semplifica la pulizia la cucina andrà sistemata e pulita adeguatamente sfruttando anche questo tempo a disposizione per fare piccoli e grandi passi nel cammino verso l'autonomia bene ora andiamo nel laboratorio in cui ci stanno aspettando Vittor e Paola le attività occupazionali e laboratoriali sono finalizzate alla realizzazione in autonomia di piccoli manufatti anche attraverso l'uso di semplici ausili che facilitano le azioni che servono allo svolgimento del compito l'attualità lavorativa soprattutto per gli adulti incrementa l'autostima e l'autoefficacia personale e l'indipendenza della persona e adesso vi faccio conoscere Paola che è una persona davvero meravigliosa io mi chiamo Paola Rupilli e faccio parte della Lega del Filodoro come ospite ormai da 13 anni qui nei laboratori facciamo dei lavoretti manuali anche con la creta il tasso e tante altre cose sono contenta di essere qui alla Lega del Filodoro quindi se ci aiutate aiuteremo anche i giovani i bambini che si trovano in difficoltà con le loro famiglie e i loro fratellini quindi dareci una mano grazie siamo arrivati alla fine della nostra visita di alcuni dei tanti ambienti del centro nazionale spero che siamo riusciti a soddisfare la vostra curiosità e soprattutto di avervi trasmesso un po' dell'emozione che si percepisce toccando con mano la nostra realtà vi saluto caramente augurandomi di incontrarvi il più presto grazie a tutti grazie a lei Nicoletta grazie a Paola che ci ha trasmesso queste emozioni davvero un tour virtuale sì nelle immagini ma nelle emozioni altro che virtuale davvero reale le abbiamo toccate con mano queste emozioni questa forza che le strutture all'avanguardia della Lega del Filodoro mette a disposizione e da lì la qualità del servizio certo che presidente se l'immaginava lei che è partito da giovane volontario non so se già c'aveva i baffi da giovane volontario ma di diventare una guida virtuale lì era era lei in quella immagine era sempre lei che faceva da tutor se l'aspettava che arrivasse a tanto la tecnologia della Lega del Filodoro diciamo me l'aspettavo avevamo la speranza di costruire qualcosa di importante e questo è stato possibile perché via via uno staff e tante persone si sono unite hanno portato la loro esperienza la loro professionalità la loro passione e gradualmente sono stati raggiunti diciamo risultati sicuramente significativi ma siamo ancora ad una fase del percorso dobbiamo guardare dobbiamo guardare avanti abbiamo l'obbligo di guardare avanti per realizzare ancora altri servizi utilizzando maggiormente le tecnologie che oggi sono a disposizione e facendo anche affidamento su questa esperienza e sui contatti che la Lega del Filodoro intrattiene con varie realtà a livello internazionale e per fare tutto questo ricordo abbiamo davvero tanto bisogno di voi è per questo che siamo qui questa sera mi ha colpito molto la stanza della musica sappiamo insomma che anche in questa sala tanta musica è stata fatta abbiamo un amico comune il maestro Marco Santini chissà che non si possa proporgli non so se in collegamento so che sono in tante in tanti stanno arrivando delle domande vi ricordiamo che al termine se avete piacere anche solo per per un saluto potete collegarvi con noi lasciarci un messaggio che leggeremo insieme con i nostri ospiti chissà cosa può combinare il violino del maestro Santini in quella sala sentire immaginare il racconto di questi utenti che si adagiano sul pianoforte quasi per avere un contatto fisico con la vibrazione della musica chissà se Giulia fa questo o chissà cos'altro tra poco lo raccontiamo la musica ci porta ad una metafora una nota quella di mamma Monica una nota quella del presidente Rossano che da sole resterebbero con tutto il rispetto parlando belle ma note la sinfonia la facciamo con un insieme di note consideriamoci tutti parte di questa musica che viene dalla Lega del Filodoro e adesso t'ho preparata t'ho anticipata adesso tocca a te non vediamo l'ora di prendere questo viaggio insieme perché davvero ci porti attraverso un viaggio ci hai già anticipato la storia della tua Giulia nata due volte la frase già direbbe tutto però raccontaci qualcosetta di più anche per il pubblico che ci segue virtualmente si Giulia nasce con una pluridisabilità sordo cieca con una malformazione ai malleoli e ai reni e quindi era appunto una lunga lista di non potrà fare non potrà fare non potrà fare quando arriviamo al centro di Osimo al centro diagnostico mi ricordo che la prima domanda che mi hanno fatto è ma se ha ancora voglia di mangiare come te lo dice e io mi sono sentita piccolissima perché effettivamente noi le preparavamo un piatto frullato misto e basta non mi domandavo ha ancora fame non ha ancora fame e i primi due segnali che le hanno un bel colpo lì un bel colpo al cuore di la mamma mi sono sentita più piccola di Giulia sì però eravamo qua apposta loro anche ci hanno abituato a stare sulle risorse ha imparato i primi segnali quindi ancora finito infatti è diventata una mangiona cresce a dismisura e siamo arrivati qui e sempre qui ha mosso i suoi primi passi qui ha detto le sue prime parole otto anni dopo sette anni e mezzo di protesi impianto cocleare a sinistra e protesi retroauricolare a destra Giulia dice la sua prima parola ciao quello che mi rimane nel cuore di tutto del percorso di Giulia è la festa e il cuore degli operatori che erano quasi più felici di noi perché che qui la persona è al centro è assolutamente vero qui io sono la mamma di Giulia qui c'è lei la riconoscono ci chiedono come va lei quando è qui segna casa e adesso ha iniziato nell'ultimo trattamento intensivo a comporre frasi qui Giulia ha rinata gli ultimi recentissimi risultati di due settimane fa compone frasi in lis è anche brava voglia di lavorare per fortuna cammina da sola mastica che non è poco qui da quando insomma ogni risultato ogni operatore diverso che incontriamo ci porta un dono di più a Giulia quello che dicevo prima alla squadra che è dietro e che lei ha citato prima è che il vero dono sono loro per noi mi viene quando ho ascoltato con grande emozione il discorso di Mattarella e quando Mattarella ha detto la Repubblica vi deve molto ho detto quanto dobbiamo noi famiglie a loro perché un'altra cosa che ci hanno insegnato a fare è sognare sul futuro dei nostri figli come fa il presidente non accontentarsi mai non fermarsi mai so che qui vengono offerte il massimo delle possibilità a Giulia loro sono molto realistici ma hanno la dote di trovare qual è il punto di forza dei nostri figli e battere su quel punto di forza e renderle la colonna portante della loro vita quello che avete sentito delle stanze è vero ecco questo insomma loro lo fanno davvero esultano prima di noi anche Giulia abbraccia il pianoforte beh Giulia ha ricevuto in dono la pedana sensoriale che ama e non non ha un buon rapporto con le protesi acustiche la prima volta che ha sentito la voce mia e del papà era con la pedana sensoriale perché poi quelle vibrazioni lei le riconosce per sempre ed è un'emozione perché loro le hanno fatto scoprire che il mondo è un posto bello che si può aprire al mondo che viene accolta amata e rispettata così come sono loro anche nelle sue crisi ci tengo a dirlo qui è l'unico posto dove io riesco a fare un passo avanti qui è vero sono la mamma di Giulia ma sono anche Monica e quando lei ha delle grandi crisi e io vivo una grande sofferenza faccio un passo indietro e lo faccio volentieri perché la lascio in ottime mani quelle degli operatori che evidentemente senza il condizionamento di noi genitori riescono ad abbracciarla a sostenerla come lei ha bisogno perché per Giulia questa è casa adesso però mi hai mandato al deraglio totale il mio presidente che da ragazzo era qua e qui col baffo che inizia a ingrigirsi e ancora si emoziona per le parole d'altro canto quando una mamma parla col cuore il presidente ciò che dice arriva al cuore non c'è non c'è verso in questo senso ogni anno succede ormai è diventata una tradizione che ci emozioniamo ma cosa si può fare se non emozionarsi di fronte a queste testimonianze una lista di non può fare che viene letteralmente stracciata messa da parte e si scrive una lista nuova delle cose che si possono fare non è forse questo quello che sogniamo per i nostri figli per i figli del mondo insomma questo succede all'interno di queste stanze meravigliose della Lega del Filo d'Oro io ho timore di chiederti qualcos'altro perché dopo il presidente non mi parla più cosa vuole dire lei presidente di queste parole no io dico che no no diciamo le parole sono state molto esplicite credo che la sottolineatura rispetto al lavoro del personale sia importante eh sì davvero perché una casa non è fatta di muri è fatta delle persone che ci stanno dentro no ed è chiaro che uno dice la famiglia viene coinvolta ma perché c'è una famiglia che aspetta perché altrimenti questo meccanismo non si creerebbe e allora hai detto già tanto davvero grazie Monica anche troppo ci hai veramente fatto emozionare cosa ti senti di dire a coloro che ci stanno seguendo cioè ai sostenitori un messaggio eh io spero possano venire a vedere presto perché quello che incontro io ogni volta che vengo al trattamento è la lega in espansione sono nuove cose nuove risorse anche questa volta hanno ripreso tutto il materiale nuovo per Giulia tutto ciò che le poteva servire e che la potesse stimolare è un'esperienza rende tanto lì nel video che abbiamo visto ma certo che vederlo dal vivo è tutta un'altra è tutta insomma un'altra cosa è toccare con mano il presidente dal vivo è tutta un'altra cosa è vero è vero proviamo anche a strapparvi un sorriso ci sono diverse richieste di partecipazione in questa che è un'ultima parte ma ci teniamo a condividere con voi anche questo volano di emozioni c'è una riflessione proprio per mamma Monica mi piace difenderti così ma Monica anche un'altra cosa bella che hai detto qui sono mamma ma sono anche Monica da Alessandra Monica cosa consiglieresti a una mamma che si trova in una situazione di difficoltà assolutamente di affidarsi alla lega del filodoro perché appena si entra si sente che c'è una grande competenza una grande professionalità e soprattutto un gran cuore ci si può affidare ci si può lasciare guidare e veramente vivere l'esperienza dei passi avanti dei nostri figli qui provo a capirla anche da genitore da papà pluridecorato e certo non è facile perché noi genitori a volte abbiamo la sensazione di sapere noi cosa serve per i nostri figli di essere sicuri che certe cose che facciamo siano quelle giuste che sono precise e mirate per i nostri figli in questo caso bisogna un po' rompere quel guscio fidarsi affidarsi completamente si diventa anche genitori nuovi diversi assolutamente sì il buio e il silenzio non riguarda solo i nostri figli purtroppo riguarda anche noi e qui portano fuori anche noi dall'isolamento vabbè ragazzi quando la chiamate più il buio lo viviamo anche noi genitori Monica te prego parli come una poesia dietro l'altra scusa allora Mario per Bartoli in questo caso cosa si dovrebbe fare in Italia affinché i diritti delle persone sordo cieche e delle loro famiglie vengano tutelati qui la faccenda è lunga mettiamoci comodi dico anche alla dirigenza dietro le quinte si riesce a dire una o due cose presidente che le stanno particolarmente a cuore che magari ha detto anche al presidente Mattarella quando è venuto qua da voi ma intanto credo che la prima cosa è che i diritti delle persone sordo cieche in questo caso delle loro famiglie sono tutelati se le leggi che esistono vengono rispettate perché noi abbiamo tante buone leggi ma che rimangono spesso sulla carta non è così semplice per una famiglia per esempio portare il figlio ad un trattamento in una struttura come quella della Rega del Filodoro in un'altra regione non è così semplice per una persona sordo cieca per la quale pure è stata approvata in Italia una legge specifica che riconosce questa disabilità come disabilità specifica e unica di vedere soddisfatti i propri diritti cioè il diritto all'educazione il diritto all'istruzione il diritto a partecipare attivamente alla vita sociale il diritto a poter lavorare laddove ci sono delle competenze e delle possibilità reali quindi lo sforzo è quello di continuare un'opera di sensibilizzazione che come Lega del Filodoro stiamo facendo ormai da sempre perché le leggi esistenti vengono effettivamente rese rendano fruibili diciamo alle persone la soddisfazione delle proprie esigenze e anche alcuni cambiamenti necessari che possano garantire all'Italia di avere una situazione più omogenea cioè oggi ci sono troppe zone troppe aree geografiche dove le famiglie che vivono lì partono doppiamente svantaggiate questo credo che non sia giusto credo che tutti quanti possiamo comprendere il significato di quanto si sta dicendo purtroppo non è sempre riscontrabile diciamo nella pratica più c'è una rincorsa al finanziamento ai finanziamenti che garantiscono appunto la possibilità di essere educati riabilitati che invece di andare a rialzo cioè di garantire più risorse apparentemente queste risorse diventano sempre meno sufficienti quindi è uno sforzo collettivo uno sforzo che naturalmente come istituzione portiamo avanti questa battaglia la portiamo avanti insieme alle famiglie la portiamo avanti insieme alle persone sordocieche che si possono rappresentare da soli attraverso per esempio i due comitati che ci sono e quindi è un impegno che è forte e credo che alla fine vinceremo sicuramente sì con questo spirito mi verrebbe da dire come si fa nel frattempo in attesa che già ma di per sé le leggi che ci sono venissero applicate non sarebbe cosa da poco come sottolinea il presidente la risposta più semplice che mi verrebbe è come si fa aiutare la Lega del Fiodoro è il primo passo per vedere questi diritti tutelati e garantiti e poi so che in termini di diritti avete un avvocato di grande qualità il nostro Francesco Mercurio che quest'anno non è con noi ma lo saluto perché è veramente un grande amico è un grande sostenitore dei diritti delle persone sordo e cieche Gualtiero è incredibile scrive nella nostra chat online vedere come riuscite ad attivare il senso ed il piacere della vita a persone che nascono sorde e cieche meritate complimenti e aiuti concreti che io non manco di effettuare sempre a fine anno un grazie a Gualtiero e con Gualtiero un grazie a chi magari in questa serata insieme sta decidendo si sta convincendo di fare quel piccolo gesto che per la Lega del Filodoro fa tutta la differenza del mondo da Serafino poi grazie per l'opportunità che mi avete dato di vedere cosa siete capaci di fare non posso che dire a tutti voi che siete semplicemente meravigliosi io per Monica e Rossano il meravigliosi ci sta al 100% ma vorrei che vedeste anche chi c'è dietro le quinte col tour virtuale qualcosa in più vedete ma davvero dovete immaginare una Lega del Filodoro come una squadra armoniosa che ogni giorno si occupa di questo servizio non so se ci siano altre richieste altrimenti andiamo ai saluti e dai ringraziamenti mi pare che ci sia anche Matteo siete tanti davvero e vi ringraziamo particolarmente per questo andiamo allora con la segnalazione di Matteo grazie a tutti per ciò che fate un augurio particolare a tutti i genitori che tutti i giorni affrontano tutto questo abbiamo capito da Monica che grazie al cielo anzi grazie alla Lega del Filodoro non siete soli però effettivamente è una sfida quotidiana importante c'è un sogno il prossimo obiettivo ci hai detto di tanti risultati anche ultimissimi salutandoci chiudendo ci possono essere ancora delle ci sono delle tappe sicuramente sì anche perché Rossano ti marca stretta ci sono sicuramente è quello che la comunicazione di Giulia continui ad aumentare così che lei possa un giorno in autonomia dire quanto meno come sta se ha dolore come possiamo aiutarla perché questa è una parte importante che manca non sappiamo se ha dolore e non sappiamo come e quando aiutarla quindi implementare sempre la comunicazione come loro sanno fare insomma ecco immaginatevi ci saranno sicuramente sostenitori da casa che hanno la bella avventura di essere genitori immaginatevi in un giorno normale qualsiasi non poter sapere dai vostri figli se hanno bisogno di un aiuto ecco questo è un percorso che ancora la nostra Giulia deve fare e questo è il posto giusto per raggiungere questo risultato riflettiamoci un attimo davvero per prima di decidere se e come aiutare presidente anche quest'anno abbiamo compiuto il tour ci ripromettiamo l'anno prossimo sperando paradossalmente che non ci sia bisogno di questa trasmissione non ci sia bisogno di me ma che si possa essere davvero fisicamente tutti insieme verremo ma verremo da amici della Lega del Filo d'Oro senza microfoni eccetera ma per goderci queste strutture fisicamente possiamo riprometterci questo sicuramente sì ci auguriamo che già dalla prossima primavera possiamo organizzare la sedicesima giornata del sostenitore in presenza dove i nostri centri i nostri servizi saranno aperti a tutti coloro che vorranno visitarli e conoscere le persone per le quali noi operiamo il personale i volontari le famiglie professionisti insomma che ci sia la possibilità di un incontro personale questo significa che naturalmente continuiamo a confidare nell'aiuto concreto da parte di tutti i sostenitori e che questo numero possa continuare a crescere e ve li manderò senza ali perché voi non possiate capire che erano in realtà angeli ci salutiamo vi ricordo che nei prossimi giorni l'evento che è stato registrato anche insieme con voi sarà disponibile in fruizione sulle piattaforme della Lega del Filo d'Oro e anche sottotitolato giustamente grazie presidente grazie Monica non le ho chiesto il suo sogno presidente Monica ci ha detto ce l'ha un sogno ancora? un sogno c'è? ce ne sono tanti dai uno uno no il primo il primo che mi viene è questo di poter entro l'anno 2024 dare inizio ai lavori per il nuovo centro in Roma però non è cosa da poco e anche voi sicuramente avrete un sogno una piccola possibilità di realizzare attraverso la Lega del Filo d'Oro perché come per Giulia tante altre persone possano chiamare questo luogo casa grazie grazie a tutti grazie a tutti